pensavate che la musica si fosse fermata sera in festa sta per ripartire vi terremo aggiornati con tutte le feste sul territorio e ascolteremo tanta buona musica con i videoclip delle nostre orchestre italiane dal lunedì al sabato 11 45 e replica pomeridiana notturna mettetevi comodi passate l'estate con noi